buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo di questa crisi delle banche che ci sta preoccupando che cosa accade che cosa potrà accadere anche sulle nostre banche i nostri conti correnti sono al sicuro come possiamo risparmiare attenzione perché ci sono dei modi per poter risparmiare ma anche avere maggiori interessi ne parleremo oggi in studio e cercheremo di capire anche la questione dei mutui insomma che cosa sta accadendo insomma i nostri soldi oggi parliamo di questo con i nostri ospiti professor fabio fortuna economista benvenuto ben ritrovato professore un tempo eravamo un po più tranquilli tutti quanti noi uscivano queste notizie beh dicevamo arrivato a un certo punto tutto si tranquillizza ora no ora siamo tutti quanti preoccupati basta vedere i giornali i titoli dei giornali di questi giorni sono veramente preoccupanti perché c'è stata una crisi in america vediamo anche visco stiamo vedendo la crisi delle banche un campanello d'allarme il governatore della banca d'italia banche in crisi in tutto il mondo e l'italia si pone un titolo di un giornale insomma questa crisi che è partita gli stati uniti delle banche è arrivata in svizzera arriverà anche nel nostro paese cioè ci abbiamo in pancia questi titoli per cui qualche istituto bancario può crollare siamo tutti scioccati dal 2008 ma la situazione è completamente differente credo che pericoli reali che possa avvenire una crisi come quella che si è scatenata nel 2008 che poi in italia ha avuto degli stracci con crisi di sette banche importanti non si rivetificherà perché oggi la vigilanza il controllo sulle banche da parte della banca centrale europea è molto forte a differenza gli stati uniti dove invece è molto più tenue e quindi questo ci dà sicura certamente nulla si può escludere ma io tranquillizzerei in questo senso non mi sembra proprio che ci siano i presupposti affinché le nostre banche possano entrare in crisi poi naturalmente vedremo ma in questo particolare momento titoli di stati e obbligazioni sono un po a rischio su quello che sta accadendo partiamo dal professor fortuna poi sentiamo le persone da casa titoli di stati e obbligazioni rimangono titoli molto tranquilli certamente erano meno appetibili fin quando l'inflazione ha cominciato a crescere oggi i titoli di stato i famosi btp danno anche dei tassi interessanti intorno al 4 per cento le obbligazioni prendere sempre obbligazioni emesse da enti che abbiano un giudizio si dice rating in termini anglo americano un giudizio favorevole e quindi scegliere le obbligazioni migliori baris in tanti tantissimi telespettatori ci stanno facendo una domanda ognuno sul personale prendo gaitano ad esempio lui dice io abito a sessori ho il conto corrente e non dico ovviamente la banca di riferimento ma in tanti ognuno ci dice la propria banca dice ecco posso stare tranquillo con questa banca visto che stanno chiudendo tutte ognuno come può fare può fare a sapere insomma se la propria agenzia la sua propria banca è sicura o meno ma vale il discorso che abbiamo fatto prima e cioè fino a 100 mila euro qualunque banca sia non si corre alcun rischio poi insomma è evidente che tutto può succedere ma quel quei soldi lì nessuno ci toglie maris volevo fare una domanda di emanuele da rimani professor fortuna dice per me che sono uno stipendiato è più conveniente ecco avere il conto corrente in banca oppure alla posta ci sono delle agevolazioni maggiori non so diciamo che oggi è presso che equivalente normalmente il conto corrente bancario offriva la possibilità di fare una gamma di operazioni maggiore oggi col banco posta anche in posta si fanno tantissimi per la bisogna confrontare i costi e scegliere magari il conto corrente che ci conviene di più assolutamente ecco professore ma che sta succedendo cioè voglio dire i tassi la bc li aumenta e quindi se prendiamo dei soldi dobbiamo pagare di più però sul nostro conto corrente è tutto piatto piattissimo non c'è aumento c'è una cosa strana il prezzo della benzina quando sale quando aumenta il petrolio non scende mai così le banche dal 1993 sono imprese a tutti gli effetti e quindi devono produrre degli utili quindi alzano i tassi per loro attivi cioè i soldi che noi paghiamo a titolo di interessi sui prestiti che contraiamo però quelli che invece devono dare gli interessi che devono dare ai clienti sui depositi ritengono fermi perché in questo momento sono fermi ed è sorprendente perché in passato almeno le banche un po li rialzavano invece i costi sulla raccolta sono quelli assolutamente nulla e questa è una distorsione questa è un'anomalia un'anomalia una distorsione che dovrebbe vedere è giustificata dal fatto che le banche hanno tantissima liquidità in questo periodo e quindi facendo investire i soldi depositati in un altro modo ottengono delle commissioni Anna dice allora sono Anna vorrei sapere se uno investe in obbligazioni ecco c'è qualche paese più sicuro rispetto ad altri ecco che lavoro di prevenzione bisogna fare per la sua fortuna è evidente che paesi finanziariamente più evoluti a cui appartengono enti che hanno emesso obbligazioni sono da preferire e anche quelle obbligazioni che sono espresse in una valuta pregiata tipo il dollaro l'euro evitare obbligazioni di società appartenente a paesi diciamo meno importanti ma poi di obbligazioni buone da sottoscrivere ce ne sono tante anche in Italia quindi ci sono state pubblicizzate anche ultimamente delle missioni di grandi società italiane che offrivano dei buoni rendimenti e rischi e sono sicure sono sicuramente solide e sicure è chiaro che è un ambito sartoriale professore però insomma bisogna avere una pensione annua non superiore a 18 mila euro lordi un ISEE anno inferiore a 11.600 euro per attenzione addirittura ci è stata dato anche la possibilità di utilizzare il banco certo non soltanto voglio dire non è come all'inizio che era un conto dove io non dovevo muoverlo posso anche fare dei movimenti limitati però sono gravi ecco posso chiederlo in banca? certo posso chiedere perché tutte le banche devono fornire questi conti di base che come dicevamo magari offrono un pacchetto limitato di operazioni invece sono tante persone sia pensionati che coloro che hanno un ISEE abbastanza basso che fanno pochissime operazioni a quel punto è proprio il conto più indicato perché non costa nulla o quasi nulla a seconda dei casi perché il canone può essere totalmente gratuito oppure ci può essere un piccolo contributo però loro non si possono rifiutare le banche se vado in banca devono accettarlo assolutamente vado in banca e chiedo voglio aprire un conto corrente base e quindi questo è importante soprattutto per i pensionati del nostro paese si può confrontare sempre il confronto Maris Marco dalla provincia di Milano dice per cortesia quanto sono attendibili secondo voi gli indicatori di rischio ecco di affidabilità presentati ad esempio quando si investe in fondi ecco come bisogna interpretarli correttamente? Prego In generale quando si investe in fondi essendo i fondi degli organismi che sono molto controllati direi che si può stare sufficientemente tranquilli anche qui evitare fondi di investimento ad esempio di paesi che offrono meno garanzie a livello teorico andare su fondi di investimento di grandi paesi tra cui l'Italia anche ma gli Stati Uniti insomma paesi che offrono di per sé una garanzia di controllo Professor Fortuna invece se io voglio investire in azioni con questi mercati che sono così altalenanti un giorno salgono all'infinito e il giorno dopo crollano c'è davvero questo aspetto di estrema vulnerabilità dei mercati in questa fase bisogna stare molto attenti sono soldi che ricordiamolo sempre che rischiamo di perdere che lì si rischia tantissimo sulle azioni come comportarsi? Diamo qualche suggerimento a casa Beh intanto diversificare e magari destinare una parte minima del proprio patrimonio a investimenti più rischiosi certamente le azioni costituiscono un investimento rischioso però già quando mi oriento su azioni che sono quotate nei mercati regolamentati le borse valori beh già diciamo che ho una forma di garanzia ma anche lì le fluttuazioni di prezzo che variano in funzione della domanda dell'offerta possono essere notevoli e dipende a che prezzo acquisto per poi vedere se avrò e ricordiamo anche che poi l'eventuale utile che ho è tassato per il 26% Non bisogna essere persone che hanno l'ansia bisogna essere abbastanza stabili in quel caso e rivolgersi a qualcuno che ci può consigliare a qualcuno che ne capisce che possa fare la consulenza Abbiamo parlato di vari tipi di investimento la signora Giovanna dice ecco io ho investito notevoli somme in assicurazioni secondo voi corro più rischi rispetto a altri tipi di investimento? Picciolini Diciamo che nell'ambito della diversificazione anche avere delle polizze assicurative è opportuno questo è un settore che va come spesso diciamo rilanciato magari attraverso ulteriori agevolazioni fiscali ma è una buona abitudine investire anche in assicurazioni Bisogna starne lontano perché già per gli addetti ai lavori è difficile l'investimento in criptovalute per chi non ha cognizioni finanziarie è un rischio assoluto Grazie davvero al professor Fabio Fortuna economista